WONDERBOY 3 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 WONDERBOY 4 WONDERBOY 4 WONDERBOY 4 Oh E sott'acqua spariamo fuoco Spongebob logic ovviamente Perché no Andiamo avanti Non mi sembra ci sia nulla di La spiaggia Cioè io avrei mezzo cuore Non so se vi avete reso conto Non so io entro a caso Oh mi può Qua sotto Preferisco la nuova E non era un po' strano la prima iniezione L'offro io Wow Non mi piace vedere il cambio tra Nuova generazione e quella vecchia Ah sono andato sott'acqua vabbè Bravo di non doverci andare Ma a quanto pare Si Allora Ora Dai però l'ho colpito Palle Colpo arrosto Chi lo vuole Cioè si L'attacco può andare abbastanza lontano Ma se io lo sparo prima Che finisca di andare per la sua via Diciamo E Non rimane Scompare Oh Spengate Eh no Ero sott'acqua Sbagliato Mi sono sbagliato Dai spara No Ho basato sull'area in G Col cazzo Ma non ricevo danno Ah ok Uso la pozione Ora proprio quando finisco la vita Giustamente Si vabbè Ma sto barracuda In che situazione Mi sono andato a cacciare Ma vi pare possibile Ok Ora siamo in superficie Non cascare Ok Cerchiamo di stare salvi Sulla terraferma Un altro attacco Wow No No Dai No Maledizione Fatto beh Ce l'ho fatta No Non iniziamo Subito Per favore Oh scoppiato Meno male Oh e vai Oh frecce No Figlio di puttana Oddio la nuvoletta Ci mancavamo a rompere le palle Perché siccome ero troppo tranquillo Ci mancava pure Mi fiderei Mi fiderei di questo Mi fiderei Mi fiderei Mi fiderei Ho paura Ho paura Ho paura di andare qui Ho paura di andarci Ah Oh quanta roba Vabbè però che cavolo sono povero Ce l'ho fatta non ci credo mai Allora aspetta aspetta Devo andare qui ok Ma prima devo andarmi a curare la signorina Che mi fa l'iniezione gratis Perché la prima iniezione la offre lei Fatti male torna presto È ammiccante la signorina Ammicca ammicca lei E io sinceramente spero di non doverci mai più tornare Anche se credo che i suoi servizi saranno molto presto richiesti Dato che sono un nabbo Ricordo vagamente qualcosa Non so perché Oh So dove andare C'era il cartello con la freccia Eh Se non ci pensa andrei lì Ehi in avanti ora Ah però Ah perché saltano in avanti Puttanaccia Tua madre ti ha partorito dal culo vero? Opa Fa anche il verso quando muore Ma tua madre pure Oh no guarda Cioè faccio il trick della vita Ehi Perché faccio i trick impossibili Poi dopo vado a perdere sulle puttanate Guardalo Andre Link Un po' di RNG ci sta Ma poco Pochissimo Madonna Un po' di RNG ci sta In questo gioco Ma c'è È molto diverso Dalla versione vecchia Cioè qui la RNG Te lo devi proprio sudare Vabbè andrò attacco Con la freccia Quindi non Ok Vaffanq Però il tasto Ho premuto B invece che A Muori Non ho le frecce Cioè contro il nemico rimbalza Oh Vedete un po' Puttana di una Nuvoletta Wow il canyon Che cos'è Sì ma quando muore la rana Ha perso tipo qua vicino Prima Ok No la nuvoletta No Oh vai Opla Guarda non so perché Ma me l'aspettavo Chissà com'è Altra volta no eh Vaffanculo Una volta di merda È schiattata Meno male No Ok Calma È puttaneva però Se ti riformi no eh Riesco a fare le scale Come una persona normale No non ci riesco è impossibile È promulio e scendo saltando perché non sono normale ovviamente No No maiale Poverino ci ha scoppiato malissimo Eh a tre cuori Che me ne faccio Ma dai ma dai Ma dai Ma ti pare Cioè no no Non so Da dietro Da nulla Rappeto la mette Rappeto la mette Rappeto la mette Rappeto la sputa E bammete Come esci Illuminati con firmed Comunque Ok qua ci devo andare Bene Prendiamo la porta Puttana Eva Cosa sei tu Un aborto di Dio Tu sai i primi umani La creati così Diceva che non andavano bene Eh che te lo mette nel culo ora Maledetto Ok devo andare per forza qua sopra Oh la signorina che mi cura Salve 45 Si stava lamentando Che non c'è nessuno Che cura le sue ferite Signorina Io sarei anche disponibile Cioè non ho nulla da fare Tutto il giorno Tanto per dire Tanto per dire Avrei due chiavi Senus Ah no una chiave No mi sono sbagliato Prima era il cuore Non era la chiave Ciao Ma dai Come faccio Come ho fatto a felare Così Malissime Cioè pattern Casuale Il drago Aveva un pattern Normale Diciamo Ma questi no Tipo Il primo gioco Senza Diciamo Veri pattern Che segue Che segue uno schema Praticamente È stato Donkey Kong Che io Che io sappia Ti brucio il culo Ma suino Ma suino Maiale Sui pensava Lui voleva Desiderava No ragazzi No ragazzi Non posso farli fuori Sti cosi È interessante Con quale Con quale abilità Trick divino Sono riuscito A superare Questa parte Ecco Che arriva E E E Bam Madonna Questi demonietti Però Cosa sono E E No 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 Salta Accidenti Oh Oh Ah Aiuto Ah Ah Ok Che Che cosa Devo fare Mammy Dragon No No Tu Non vuoi Tu No 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 Cosa Devo fare Ma Non posso È impossibile Come Faccio Quanti danni Fa però Cioè Scusa Sei una mummia A parte che Ha un maiale Ha un facocero Prima cosa È un facocero O un maiale Anche fosse Un drago Maiale Come Bowser Che era un maiale Invece è diventato Un dinosauro Alla fine No Era sempre più in alto Andava Dai Guardalo Ah No 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 Devo saltare più in alto Caro C'ero quasi C'ero Eh Pensavi tu Eh 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 Sì va bene Ma dove mi Vabbè Se si blocca Se si blocca L'ho colpito In bocca Praticamente Eccolo Eccolo Dai No L'ultimo Mancava L'ultimo Maiale Maledetto Scendi Scendi Facocero No Dai No No Ragazzi No No Ragazzi Non ci sto a perdere Così però Eh Vabbè Amen Amen Trasformami In un topo ığı Eccolo Di Bu 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 Vado qui allora Ah bene Uff I mallocchi Cioè posso stare qui praticamente fin che voglio E ho un grande cuore ma se andassi qui Ah Ok Bene E qui invece Return Ritorna Ah ora posso Oh so dove andare ora Allora la password no devo scrivere Vabbè c'ho lo screenshot comunque sia della password Bene E carica Ehi Ehi Qui che c'è Ok E quanto costa sta roba No la nuvoletta Oh mio dio No sti cosi non si distruggono facilmente Quindi li salto Bellissimo il paesaggio Ah un po' meno quello vecchio Ma insomma Ha il suo stile Quello vecchio intendo Ha il suo stile Mio dio mi inseguono Cosa diavolo Ma mi lancia fiamme che mi inseguono Puzzolento proprio No ragazzi Cioè ho felato malissimo Devo andare sopra Mi dice Ah proprio lì devo andare Cioè niente che dice sai Ah ok Non ho male Oh La giungla Ehi Si già iniziamo Con la rana che salta La spada dello shogun Che potrei acquistare Ok Vedo che te ne intendi Cioè devi morire male Però tu Eh Allora Vabbè Ciao Quando c'è la fermanzia Un coso di questi Niente Rimane Un po' di tempo Se la faccio di fretta No Dai Ha girato Che cavolo però La rengisi Va a farsi fottere La rengi Figlio di puntana Però dai Ah quelli con la testa Quindi attaccano E saltano Voglio dire Quelli senza Invece Signore Signor pipistrello Lei sa una cosa Nei giochi C'è una cosa Chiamata RNG Ovvero Se compri determinate azioni In un certo momento Puoi evitare Di farti male Al culetto Vabbè Vabbè Vaffanculo Scheletro Eh Allora Ah Ho failato Potevo farla Benissimo Vabbè Ciao Scheletro No Ma dai Donna Vai Va Eh no Sei boomerang Eh dai Uno Due Tre Il quarto Lancia alto Bene No L'ho mancato Per un pelo Vai Qui Bene No Porca miseria Ho detto all'inizio Che sarebbe stato Un video unico Ma Quasi quasi Mi viene voglia Di giocarlo Un po' di più Vado un attimo A vedere una cosa E vi dico Se farò altri video Beh Sto vedendo Che c'è un bel po' Di roba Ancora da fare Però Vabbè dai Per questo Per questo Diciamo Per questo video Lo finisco qui Poi Non so Se avrò Se avrò Di continuarlo Comunque sia Intanto questo Lo tengo Come un video A sé Per il momento Poi Nel caso Voglio caricarne Ancora Lo farò sapere Cambiorò il titolo Ad ogni modo Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto E devo dire Che hanno fatto Un ottimo lavoro Hanno mantenuto anche Lo slide del personaggio Quando cammina Che scivola Che scivola Che scivola Mi sembra Che questo Non ci fosse Nel Wonderboy Originale Anche perché Non ho avuto Modo di giocarlo Non mi sono mai Interessato veramente A Wonderboy Ora come ora Ad ogni modo Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Questo video In descrizione Come sempre Trovate i link Per facebook E twitter E se ancora Non siete iscritti A canale Iscrivetevi A noi Ci vediamo In un prossimo video Bye bye Ciao